Allora mi presento perché giustamente immagino nessuno mi conosca come giusto che sia, io sono Annette Palmieri e sono una social media manager e una community manager freelance. Ho messo piede nel mondo digitale iniziando proprio a lavorare nel mondo del community management con un'agenzia che si occupa soltanto di questo e adesso lo faccio come consulente. Quindi a differenza delle cose che avete sentito prima, cioè la parte delle aziende, adesso io vi parlo dalla parte del consulente che gestisce varie community e vi porterò il caso di un'azienda che seguo, che in realtà è molto piccola, però mi piaceva portarla proprio perché lì siamo partiti da zero con la costruzione della community e abbiamo implementato poi una serie di novità tra cui i chatbot. Innanzitutto perché vi parlo di chatbot legato al tema del community management? Perché ormai stiamo andando sempre più verso la personalizzazione, non ci basta più offrire agli utenti una serie di contenuti, dargli una serie di messaggi che non siano personalizzati perché l'utente è continuamente alla ricerca di un'esperienza da vivere insieme al brand. Vi faccio un esempio che è magari un po' fuori dal community management. Oggi si parla tantissimo di remarketing su Facebook, penso che voi ne abbiate sentito parlare e che lo subbiate continuamente. Quella tipologia di pubblicità ormai sta diventando obsoleta perché non è una pubblicità personalizzata ad un punto tale da permettere all'utente di identificarsi e quindi di continuare. Dobbiamo un attimino passare verso l'analisi comportamentale ed è una cosa che il chatbot ci permette di fare perché ci permette di attribuire dei tag alle conversazioni che avvengono sulla nostra pagina Facebook. Vi parlo di pagina Facebook e non di gruppi, a differenza di quello che vi hanno raccontato prima. A questo punto avevo messo un video, ma sentendo la provenienza di parecchi di voi sicuramente lo avrete già visto, perché è il video dell'assistente vocale di Google. In questo video avviene la prenotazione dal parrucchiere, penso l'abbiate visto, fatto direttamente dall'assistente di Google su input vocale dato dall'utente. Perché vi ho inserito questa cosa? Perché questa è personalizzazione allo stato puro. Quindi più di questo non c'è. Adesso vi do alcuni numeri che legano i brand e le community. Perché i brand dovrebbero fare community? Adesso lo vediamo. Allora innanzitutto il 77% degli utenti possiede uno smartphone e questo permette agli utenti di essere connessi fra di loro e con i brand in maniera istantanea con tutti. Il 97% delle persone sono connesse sui social media e passano circa due ore di questo tempo sulle app di messaggistica. Whatsapp, Telegram, Messenger e così via. Un terzo degli utenti che usa internet segue i brand sui social ma soprattutto un dato che vediamo fra poco è che gli utenti preferiscono parlare con i brand tramite messaggi privati piuttosto che tramite una telefonata o ancora tramite una mail. Preferiscono scrivere perché diciamo che la vostra pagina Facebook va ad abbattere tutte quelle barriere che una telefonata invece può creare. Quindi ricordatevi che la prima impressione è tutto quello che conta. Ogni utente influenza dalle 9 alle 16 persone. Prima i ragazzi dell'app Friends ci dicevano che appunto l'app si rivolge a delle persone che influenzano, no? Poi gli amici che hanno su Facebook. Questo perché? Perché parliamo tanto di influencer ma alla fine noi veniamo facilmente influenzati da tutte le persone che sono intorno a noi. E un altro dato importante è che l'utente è portato a riportare le proprie esperienze negative piuttosto che quelle positive. Spesso quando noi andiamo anche banalmente su TripAdvisor troveremo moltissime recensioni negative. Sulle stesse pagine troveremo moltissime recensioni negative. E' più facile che gli utenti vengano sulle vostre pagine per lamentarsi che per dirvi quanto siete belli e bravi. Il 90% degli utenti d'altronde si lascia influenzare dalle recensioni perché comunque ha bisogno di avere una conferma sociale rispetto a quello che sta facendo. Sto per acquistare, sto per fare questo acquisto. E' giusto quello che sto facendo e gli altri cosa ne pensano? Il 27,3% utilizza le community per cercare un prodotto. Quindi questo che cosa vuol dire? Che gli utenti vanno sui famosi gruppi Facebook di cui abbiamo parlato prima per effettuare delle ricerche. Come se fossero, lasciatemi dire, un piccolo Google. Quindi noi entriamo in queste community per avere informazioni su un prodotto o su un determinato servizio. D'altra parte però, l'85% dei marketer, cioè di chi sta dall'altra parte, crede nella forza della community. Soprattutto se integrata con un customer journey. Il customer journey è il viaggio che compie l'utente da un punto X fino ad arrivare magari ad un acquisto legato ad un brand. E in questo customer journey ci sono tutta una serie di touch point che l'utente tocca. Noi brand dobbiamo essere in grado di essere su tutti i touch point su cui l'utente arriva. Quindi sostanzialmente che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sapere esattamente l'utente dove va, perché ci va e ogni volta non possiamo dirgli la stessa cosa. Dobbiamo studiare un messaggio per tutti i punti che compongono questa catena. Il 66% delle community di brand costruisce delle relazioni, quindi contrariamente a quello che pensiamo sulle pagine Facebook, il community manager di turno è lì per creare una relazione con l'utente. Perché? Perché il community manager non è altro che oltre che la persona che si immola per la causa, è la persona che diciamo fa da intermediario tra il brand e tra l'utente. Quindi se da un lato deve avere piena empatia con gli utenti, conoscere perfettamente gli utenti, di conseguenza conoscere quali sono gli argomenti di cui deve parlare e gli argomenti di cui non deve parlare, dall'altro lato deve anche farsi portavoce del brand. Quindi deve anche essere in grado di portare continuamente i valori del brand al primo posto. Questo è un dato bruttino, perché abbiamo parlato di quanto sia importante, però il 44% di chi fa community management non misura le performance. Quindi il 44%, probabilmente quasi la metà dei competitor che voi avete, non sta misurando le performance e quindi non sta affrontando in maniera seria il community management. Perché tutto deve essere misurabile, altrimenti le attività che mettiamo in campo non hanno alcun senso. Vi ho parlato di customer journey, se io non attribuisco dei numeri e dei valori e dei modelli ad ognuno dei touch point, sto perdendo tempo e sto buttando soldi. Le community quindi hanno bisogno di avere una struttura per avere un ROI positivo. Perché vi parlo di struttura? E questo si lega anche alla questione del chatbot, perché se io non ho una community strutturata, non sarò nemmeno in grado di diversificare le conversazioni, di inserire le conversazioni all'interno di varie caselle e di dare un valore ad ogni conversazione. Il messaggio che io voglio che passi è che non tutti abbiamo bisogno di integrare un chatbot per gestire la nostra community. Oggi è una cosa che va tanto di moda, penso che su Facebook ne avrete visti miliardi, milioni. Penso che vi sia capitato di parlare con un brand su Twitter e rendervi perfettamente conto che dall'altra parte non c'era una persona, ma c'era una macchina. Quello è sbagliato. E quello è sbagliato e probabilmente succede perché dietro non c'è una struttura, perché non si è stabilito che la nostra community ha questa struttura e quindi il chatbot interviene per queste keyword, interviene per risolvere queste situazioni. Il ruolo del community manager è comunque imprescindibile perché è la persona che può aiutare a realizzare un chatbot. Io non sono una sviluppatrice, eppure insieme a delle persone che poi lo hanno fatto materialmente, sono andata a sviluppare questo chatbot perché io conosco la mia community, quindi sapevo come doveva parlare e sapevo quando doveva intervenire e quando invece devo intervenire io manualmente. La personalizzazione, quindi, torno a ripetere, è tutto. Qui vi ho messo l'esempio di un chatbot che ho provato qualche giorno fa, perché ormai quando li vedo li provo tutti per vedere un po' cosa succede e questo è un esempio positivo, a mio parere. Non conoscevo nemmeno questa azienda, Fit Prime, mi è uscita questa sponsorizzata su Facebook, ci clicco. E loro inizialmente mi propongono di scaricare qualcosa dicendomi se voglio un piano alimentare posta buffata, cioè se ho mangiato troppo, era una domenica pomeriggio, se ho mangiato troppo e quindi voglio scaricare questo ebook per tornare in forma. Ok, va bene, lo voglio scaricare, tutto ok, loro mi forniscono questo link. Iniziano a mandarmi dei messaggi e io li ignoro, non rispondo, non rispondo mai. E quindi loro ad un certo punto mi richiedono, ma questa prova gratuita poi l'hai fatta? Vedete, hai già strutturato la tua prova gratuita? Sì, no. Io ho risposto no, mi piace sempre dare la risposta negativa perché tendenzialmente quando date quella positiva c'è già un workflow impostato e quindi siamo sicuri che ci risponderanno. Quando c'è quella negativa si finisce un po' nel limbo, insomma, e quindi ho dato quella negativa per mettere questo chatbot alla prova. Loro mi chiedono, vuoi che ti spieghiamo meglio? Quindi in questo caso avevano strutturato il workflow anche per la risposta negativa. Dopo vi faccio vedere un altro di risposta negativa su cui poi è andato a filo un po' male. Vuoi che ti spieghiamo meglio? Io ho detto, basta, non mi interessa più. Ok, se non vuoi più ricevere, scrivi stop. Stop. E poi mi è arrivato un messaggio in inglese su cui ho dovuto ulteriormente cliccare per disiscrivermi. Questo invece è il caso negativo. Non so questa chi è, Alessia Rezzi. Mi esce di nuovo questa sponsorizzata su Facebook, come al solito ci clicco per vedere che cosa succede. E lei mi chiede, ciao, sono Alessia, sono dimagrita. Così, sei pronta? Poi non so perché ultimamente mi escono tutte queste pure. Mangio, non lo so. Cioè, forse è un messaggio subliminale per dirmi che devi dimagrire, va bene. Sei pronta a scendere in spiaggia con un corpo nuovo? Mi diceva sì, no. Ho messo no. Morto. Così, non se l'aspettavano. Ecco, infatti il chat bot. Cioè, lei si sarà suicidata probabilmente. Quindi questo, qual è la differenza fra questi due bot? È che comunque noi dobbiamo prevedere qualsiasi caso. Se noi diamo varie opzioni, questa diciamo era quasi una domanda retorica, no? Perché magari una persona che ha cliccato su questa tipologia di sponsorizzazione, al 99% avrà cliccato sì a quel punto. Però io non posso escludere le persone che invece potrebbero... Se tu mi dai la possibilità, insomma, io rispondo. A risposta devi essere pronto a dirmi qualcosa. Bah, eliminata. Mi sono cancellata da questo chat bot. Adesso vediamo a quello su cui ho lavorato io. Vi presento brevemente questa azienda di cui sicuramente non avete sentito parlare, perché Ufficio K Eventi è un'azienda che organizza concerti ed eventi culturali in tutta la campagna. Quindi diciamo che noi siamo un pochino agevolati, perché abbiamo un tema di fondo che unisce le persone, che è la musica. Dieci anni fa nessuno sapeva che dietro ai concerti a Napoli c'era Ufficio K Eventi. A Napoli o in tutta la campagna ci sono stati grandissimi concerti di grandissimi artisti, ma nessuno sapeva chi organizzava questi concerti. L'obiettivo di questa azienda era quello di fare branding. Noi vogliamo che le persone sappiano che dietro ai concerti ci siamo noi. Quindi da lì è iniziato tutto un lavoro. Prima in offline, abbiamo iniziato a lavorare durante gli eventi. Quindi durante gli eventi, con dei photo booth, semplicemente rilasciando degli sticker, iniziando a raccogliere manualmente le mail delle persone, e quindi compilavamo dei moduli, mentre le persone erano lì ad aspettare il concerto, per poi iniziare tutta una serie di attività di mail marketing e così via. Però ad un certo punto ci siamo detti, ok noi, questo è già poi quello che abbiamo fatto, quello che noi abbiamo sono delle persone. Abbiamo una base di utenti che in questo momento non fanno nulla. Non interagiscono tra loro, non interagiscono con noi. Cosa possiamo fare per dare valore a queste persone? Perché queste persone ci dovrebbero continuare a seguire? In fondo, io se domani mattina scendo in strada, vedo comunque una lucandina e saprò comunque che c'è il concerto a Napoli. Perché devo seguirti? E quindi abbiamo cercato di iniziare a parlare di quello che facciamo, a parlare della musica, a parlare dei concerti passati, a lanciare delle domande, chi vorreste ascoltare, semplicemente a fare un po' di interazione. E ad un certo punto questa community è diventata molto molto strutturata, tant'è che le richieste al giorno sono tantissime, e quindi non c'ero più solo io, ma c'era anche un'altra persona che gestiva queste richieste, perché arrivavano richieste di ogni tipo. C'è anche richieste per dire, non so, posso bere nel locale? Cioè domande che non riguardavano l'organizzazione del concerto. L'anno scorso abbiamo quindi implementato questo chatbot, che è stato costruito semplicemente con un tool online, e all'interno per far iscrivere le persone a questo chatbot, inizialmente abbiamo organizzato un contest. Quindi c'erano 100 biglietti in palio. E adesso vediamo come funzionava questo chatbot. Inizialmente le persone dovevano, vabbè, iniziare ad interagire con noi, perché poi una volta implementato il chatbot abbiamo due possibilità per sponsorizzarlo tramite Facebook. O inviare un messaggio a tutte le persone che già in passato ci hanno inviato un messaggio, oppure fare una campagna che parte da zero, su cui le persone devono cliccare, cliccano su inizia e quindi iniziano ad utilizzare il nostro chatbot. In questo caso noi inizialmente chiedevamo ma sei qui perché vuoi partecipare al contest, oppure sei qui perché ti servono delle info. Nel momento in cui cliccavano su mi servono delle info, allora noi chiedevamo ti servono delle info su quale dei concerti di questa settimana. E quindi da lì partiva un workflow personalizzato. Nel caso in cui fosse voglio partecipare all'evento, davamo tutta la spiegazione dell'evento, cioè del contest, con il link al regolamento, su cui le persone potevano trovare tutte le regole che sappiamo, dobbiamo implementare quando organizziamo un contest online, fino a farci lasciare i suoi dati perché ci sono in palio questi 100 biglietti gratuiti e te lo dobbiamo inviare a casa. Quindi queste persone ci lasciavano il loro indirizzo. Ma a questo punto, già che siamo qui, facciamo un passo in avanti. Per inviare delle comunicazioni maggiormente personalizzate abbiamo suddiviso delle categorie, categorie di eventi musicali che vengono organizzati. Quindi, quale musica preferisci? Quali dei concerti preferisci? Hip-hop, indie-pop oppure entrambi? In questo modo il chat botta la possibilità di attribuire un tag e quindi far partire un flusso a parte per quel tag e personalizzare la conversazione. Quindi, invece semplicemente di inviare a tutti tutti i concerti che c'erano, magari io questo fine settimana ho un concerto sull'hip-hop che a lei non interessa. Quindi, evito di spendere soldi, evito di perdere tempo, ma soprattutto evito di mandarle qualcosa che non le interessa. Quindi, che cosa succede? Lei ci risponde, grazie per l'attenzione. Questo è quello che succedeva nel back-end del chat bot. Quindi, all'interno del back-end noi abbiamo qual è il tag che lei ha inserito? In questo caso lei aveva cliccato su indie-pop. Abbiamo il canale di acquisizione e poi abbiamo i custom field che vengono inseriti a seconda delle informazioni che vengono richieste. Noi in questo caso richiedevamo il suo nome, il suo cognome, l'indirizzo di casa per inviarle questa comunicazione. Quindi questo è quello che una volta cliccati tutti i vari campi eravamo noi a visualizzare qui dentro. Come si è evoluta poi questa conversazione nel tempo? Cosa abbiamo fatto di queste informazioni che avevamo qui? Bianca non ha vinto il contest, quindi non ha ricevuto il messaggio, perché chi poi ha vinto il contest, scelto in maniera del tutto random, ha ricevuto un'altra tipologia di comunicazione in cui veniva detto ciao hai vinto, a breve ti invieremo la cartolina a casa. Che cosa è successo? Che da quel momento in poi, come vedete, Bianca riceve soltanto le comunicazioni relative ai concerti che le interessano. Quindi ogni settimana noi per una sola volta impostiamo il messaggio suddividendo per tipologia gli eventi e andiamo ad inviare queste tipologie di comunicazione. Quindi abbiamo dei caroselli con tutti gli eventi su cui lei clicca, può acquistare il biglietto, può semplicemente vederlo e così via. Quindi come vedete, come vedete, lei qui può scegliere di partecipare ad un evento che sicuramente le interessa. Non le abbiamo inviato degli eventi che sono fuori da quello che lei ci ha raccontato, meno spesa, meno risorse, perché a questo punto non c'è bisogno di due persone. Ne basta una perché quest'altra parte la fa il chatbot. Il chatbot in questo caso lo abbiamo anche utilizzato per l'ex iscrizione alla newsletter. Cioè prima che cosa succedeva? Che noi avevamo una newsletter settimanale. Effettivamente ci siamo resi conto che era inutile perché comunque ci rivolgiamo ad un target molto giovane. Ed è stato anche questo che ci ha spinto poi ad implementare il chatbot qui sopra, su questa pagina, che ha un tasso di apertura di circa il 96%. rispetto all'email su cui invece avevamo un tasso di apertura del 3%. Non voglio dire che l'email marketing è inutile, attenzione, e che invece dobbiamo tutti quanti implementare un chatbot, voglio dire che nel nostro caso avevamo un target molto giovane che non legge le email, non sta sul cellulare ad aprire le email come invece può fare magari qualcuno di noi, ma passa più tempo sui social network e quindi è più portato ad aprire i messaggi che gli arrivano piuttosto che ad aprire una mail. Quindi, quali sono i benefit che un community manager può trarre da un chatbot? Piuttosto che trascorrere pomeriggio a cercare delle risposte può impostarle nel chatbot. Ad esempio, ognuno di noi avrà delle FAQ, no? Quelle famose domande che tutti vi fanno. Noi possiamo impostare delle keyword e quindi risparmiare tempo e dedicare tempo ad altre attività. Quindi far intervenire il chatbot in questi casi. Ovviamente non lo possiamo fare per un caso di crisis management. A me ad esempio è successo con Wind tempo fa, un caso negativissimo. Sono passata a Vodafone dopo tipo mezza giornata perché mi rispondeva continuamente questo bot sempre nello stesso modo e quindi li ho abbandonati perché mi hanno dato molto fastidio. Quindi inserendo una parola chiave noi possiamo fornire delle risposte. Il chatbot quindi si può occupare semplicemente di tutte quelle richieste procedurali come vi dicevo mentre noi dobbiamo intervenire per creare quella famosa relazione tra il brand e la community. Perché? Perché il chatbot comunque si basa su dato questo input fornisci questa tipologia di risultato quindi questo output mentre per un chatbot è difficile stabilire una conversazione iniziare a parlare perché? Perché al chatbot manca questo che noi invece abbiamo e quindi possiamo iniziare ad impostare una conversazione con le persone. Vi lascio con questa citazione perché vedo che mi stanno scrivendo anche fine quindi stop alle telefonate stop alle telefonate il televoto è ufficialmente chiuso quindi il tuo brand è quello che le persone dicono quando tu non sei nella stanza ma noi grazie a questa tipologia di attività possiamo essere continuamente all'interno della stanza e quindi controllare quello che viene detto di noi e correre immediatamente ai ripari grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti